Taffi con l'osso, eh? È il suo gioco preferito! Guarda, una stella cadente! Chissà se ci sono gli ossi nello spazio! Potremmo inventarci una storia! Proviamo a immaginare una notte stellata! È venuta a trovarci la nostra amica astronoma! Passeremo la notte a guardare le stelle! Che bello! Ma le stelle non sono molto lontane! Anni luce! Per fortuna la nostra amica ha portato il suo utilissimo... Super celestiale... Telescopio... A lungo raggio! Non esco mai senza! Wow! Ma quante stelle ci sono! Grazie a questa mappa celeste sapremo esattamente cosa stiamo osservando! Guardate! Una stella cadente! No, Taffi! Non puoi seguirla, però puoi dare un'occhiata! Cosa c'è, Taffi? Credo che abbia trovato un osso spaziale! Quando le stelle fanno una forma, compongono una costellazione e secondo la mia mappa celeste... A dire il vero, non penso che sia una costellazione! Secondo me è un vero osso spaziale! Che cosa possiamo costruire per risolvere questo mistero? Un razzo spaziale! Andiamo! Sarà fantastico! Ho sempre sognato di salire su un razzo spaziale! Anch'io! Anzi, è il sogno della mia vita! Malibu, abbiamo un problema! Che cos'è? Mi sembra una cosa stupida da dire, ma non c'è abbastanza spazio! Oh no! Non ci staremo mai qui dentro! Ma qualcuno ci sta! Taffi alla riscossa! Urrà! Sei comoda lì dentro, Capitano Taffi? Cinque, quattro, tre, due... Lancio! Sì, Taffi! Vai, Taffi! Brava! Sta tornando! È in fase di atterraggio! Così sapremo se è un osso spaziale oppure no! Uh, uh! Non ci credo! Uh! Avevi ragione tu, Taffi! Beh, c'è soltanto una cosa da fare quando un cane trova un vero osso spaziale! Prendi! C'è soltanto una cosa da fare quando un cane trova 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 un cane Grazie a tutti.